Bari, al suo angolo, Alessandro Moneracqua e Nel Filippo, per la BD Production da Ostia, Italia, Gliopoli! Bari, alessandro Moneracqua e Nel Filippo, per la BD Production da Ostia, Italia, 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 Bari, alessandro Moneracqua e Nel Filippo, per la BD Production da Ostia, Italia, 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 Italia Grazie a tutti. 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 costriamo capo vici gore nuke capo ne daj mu da razmišla vai vrenja radi labavo asika labavo igraete . 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 Vieni da lontano! Non lo vieni sotto! Vieni da lontano! Non lo vieni sotto! Vieni da lontano! Conoci! Conoci il tuo cuore! Conoci il tuo cuore! Non lo far venire che è lì! Prego! Metemi! Metemi! Proviti! Vieni da lontano! Vieni da lontano! Non lo vieni sotto! Vieni da lontano! Trovaci! Sexto braccio a sinistro! Vieni da lontano! Carri! Non lo vieni dentro! Chiunque! Vieni da stare! Stavici! Vi! Vieni da lontano! Vi vieni sotto! Vieni da lontano! ... ... ... ... ... ... ... Grazie! 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 Siamo pronti per lanciare il vendetto. Vince questo incontro ai punti. Gabi! Morghi! Grazie! Grazie a tutti.